La piastra 10x14 l'ho montata, passiamo subito alle prove. Comincio subito con la fede. Mettiamo a 30. Vediamo che succede con i standard. Già sento. Vediamo che succede con i standard. Vediamo che succede con i standard. Vediamo che succede con i standard. Sì, quindi abbiamo il 30. Vediamo. 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 Vediamo che succede con i standard. Diciamo che la fede a 30 si sente standard. Sempre un po' meno. Vediamo. 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 col classico euro, 1 euro, impostiamo, 30 centimetri, ok siamo a 30, standard, si sente, qua si sente parecchio, sono i standard, qua proprio si alza, proprio, un po' altissimi, vogliamo il discrete, quindi il commotion, ho sentito, ho sentito, ci sta, si sente bene, qui va bene, si sente sempre, è altissimo, diciamo che la sicurezza la trova un po' più bassa, però già a 30 si sente bene, siamo discreti, ok, quindi devo, si può dire comunque a 30 si sente, infatti sono stati sempre di quei 3, 4, 5, 6 centimetri, prima di 26, 27, lasciamo dire che a 30 centimetri si sente, possiamo un po' di più, dipende, poi in acqua di mare con il sale dovrebbe sentire molto di più, direi sempre di 4, 5 centimetri, nella seconda modalità, quindi 30, 25, potremmo dire, con 1 euro, andiamo a vedere di nuovo questa piccolina, si sentiva veramente bassa, a pochi centimetri, 7, 8, per punto il cathedral, abbiamo Penna cui il battuto d��o, comuniamo abbastanza, matti di gira, concretamente, l'america comune e l'implomio, metterò dentro, standard, quando ci passa andano sempre pochi centimetri è vero che dà la potenza qua su questo punto questo e questo in non motion qui non si sente o bassa sul lato si quindi per centrare non si guarda al centro ma in realtà è per centrare oggetto si sente il doppio praticamente passa da una parte all'altra dovevo prendere la mano quella da 8 pollici era più piccola ed era più semplice magari centrare all'oggetto o questa grande è più complicato adesso proviamo classico tappo ok qua siamo 31 31 circa standard lo sento non è altissimo anche il discreto sento non è però po' ah ok c'è a volte non lo dà a volte si a volte non lo dà si 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 un standard si sente parecchio si sente parecchio ok 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 anche con il tappo sono sempre più di centimetri in più se prima era 26 22 siamo 30 31 e invece di 22 siamo intorno 25 26 proprio in linea di massima quindi mi sembra che con tutti i target ci siamo non li sto provando tutti perché tanto è sempre intorno a quei 4 5 6 cm di più rispetto all'8 pollici questa da 10x14 10x14 performance mono 5 10x14 2 2 1 3 1 2 Grazie a tutti